Siamo a Stornarella in provincia di Foggia, al mio fianco c'è il sindaco che ha appena inaugurato la nuova palestra. Immaginate che la palestra era inagibile in questa scuola dal 2002, dal terribile terremoto del Molise che si proiettò anche in quest'area. Siamo riusciti in questa operazione in pochissimo tempo perché tra la ideazione nel 2015 e l'inaugurazione nel 2018 sono passati meno di tre anni. Questo ovviamente per noi è un motivo di grande orgoglio. I miei complimenti al sindaco, a Massimo per quello che ha fatto perché lavorare in questo modo con sindaci bravi consente alla regione Puglia di rendersi concreta. La regione non è come un comune, programma, prepara i bandi, consente ai comuni con i progetti migliori di utilizzare il danaro nella migliore delle maniere, sorveglia che il lavoro sia terminato bene nel tempo previsto. È quello che oggi abbiamo fatto assieme al sindaco. Ovviamente per noi è una grande soddisfazione visto che sono passati più di 16 anni da quando la palestra è stata chiusa e ovviamente i ragazzi quando era possibile venivano trasportati con lo scuola BOSS alla palestra delle scuole medie. Ovviamente c'era del disagio. Adesso finalmente in poco meno di tre anni siamo riusciti a mettere su, grazie al contributo regionale a fondo perduto, questa palestra e quindi i ragazzi potranno tornare tranquillamente a svolgere la propria attività. Devo dire che non sarà solo la palestra della scuola ma sarà la palestra comunale, la palestra del territorio, la palestra di Stornarella. Quindi sarà aperta anche alle associazioni che avranno la possibilità, avendo i requisiti, di poterla utilizzare.